Resta ancora aperta la vicenda dei doppi turni della Don Milani di Campobasso. L'amministrazione comunale avrebbe dovuto fornire la soluzione ai doppi turni ai quali sono costretti gli alunni della scuola di Via Leopardi. Soluzione che doveva arrivare entro il 15 gennaio, ma tutto sembra essere ancora in alto mare, se è vero come è vero che il Consiglio Comunale sta ancora discutendo sulle opzioni che sono sul tappeto. L'argomento è tornato nuovamente all'attenzione della Sise Civica chiamata a pronunciarsi su una delle proposte pensate dal Sindaco ed esaminate nel corso della riunione della Commissione Lavori Pubblici presedute dal Consigliere Massarella. Una soluzione è già stata proposta, quella che è oggetto invece dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, prevede invece una soluzione un po' diversa nella sostanza, che è quella di cercare di mantenere tutte le aule, quindi tutte le classi nell'ambito del quartiere di Vazzieri. Questa è in estrema sintesi la proposta che come ordine del giorno presenteremo oggi a brevissimo in Consiglio. La proposta prevede una divisione, diciamo così comunque, di alcune aule da ricavare sul plesso, dell'attuale plesso di Via Leopardi ed una parte di aule da ricavare nel plesso di Via Alfieri con dei lavori di aggiustamento, dei lavori di risistemazione delle aree interne. Ovviamente questa proposta prevede lo sfruttamento degli attuali locali della Bibliomediateca. Dall'opposizione l'affondo della coalizione civica. La soluzione preposta stamattina comunque non va a esaudire quelle richieste pervenute sia dai genitori che dall'Istituto, e cioè i doppi turni non finiranno il 15. Questo è molto grave perché non viene rispettato quell'ordine del giorno che all'unanimità avevamo tutti votato il 3 novembre scorso. Poi c'è il problema dello studio della vulnerabilità sismica, no? Per quanto riguarda sempre il plesso di Via Leopardi. Sì, ad oggi ancora non ci sono i risultati di questo studio. Da questa mattina l'interrogazione è presentata dal sottoscritto. Il sindaco ha risposto che addirittura va riscritta per una serie di accordi con l'università nonostante ci stiano lavorando sopra e va rifermata. Per cui questo la dice tutto insomma sui tempi. Per quanto riguarda tutto lo studio si parla del 30 giugno. Per quanto riguarda la Don Milani fra qualche giorno. Ma ad oggi ancora non perviene nulla al comune di Campobasso. Ecco, secondo lei perché l'amministrazione comunale ancora non ha trovato una soluzione al problema dei doppi turni della Don Milani? Si poteva fare qualcosa di diverso? Assolutamente sì. Se l'amministrazione ha fatto un bando per reperire strutture private, pubbliche, hanno risposto è giusto che si vada in quella direzione. Oggi non comprendo perché si prende un'altra strada. La proposta che viene in consiglio comunale, quella di sistemare da una parte e l'altra, smembrando l'istituto non mi vede concorde e io lo evidenzierò insieme al consiglio comunale. Soprattutto per il fatto che, ripeto, si va a intervenire su un edificio dove ancora non si sa che cosa si vuole fare perché lo studio di vulnerabilità ancora non arriva nell'amministrazione.